Ciao ragazzi siamo tornati, siamo sempre io, siamo sempre io, siamo sempre noi, è incredibile ho fatto lo stesso errore per due volte nello stesso video dello stesso videogioco, è incredibile comunque abbiamo vado in questo nuovo video, in questo secondo episodio di SuperCatbox, siamo sempre noi, è il peggio, ok va bene e quindi faremo il secondo video, in realtà oggi comincerò il secondo video, la settimana scorsa avevamo lui arrivato a 12, poi io da solo sono arrivato a 12 se l'ho fatta, non so come, bene, non mi ricordo come si gioca, aspetta, attenzione l'effetto matrix credo che ci sta creando dei problemi di volte mi piace di più di questo video, è incredibile, il caro vecchio amico, il caro vecchio pezzo di merda aspettami, devo ricordare come si gioca, l'uomo a cui si muovono i capelli più delle tette di una signora questo qui non si sente molto di più, si torna indietro, vi ricordate, se non vi ricordate un altro è uscito, stai vincendo, stai vincendo, sei la merda fottuta, sono con i capelli delle tette inizio, in cosa dove inquadrano te, quindi sanno dove sei, stanno facendo gli stalker ma poi prima non so perché ti ho sbloccato, ho sbloccato pure qualche arma, mentre ho giocavo a solo quindi si è bloccato proprio di qualche arma strana che non l'hai mai vista, si però cazzo sei in zero, nuovo ricordo mondiale mi ha fatto malissimo qua, con la vasellina, comunque dicevo poco fa, per chi non si ricorda si devono prendere più di 10 casse, almeno per sbloccare il prossimo livello, ma poi ci sono poi le modalità più complicate così che sono un bel problema, che mi sa che a quale lato più dobbiamo sbloccare, forse dovremmo sbloccare questo naturalmente è il secondo livello, vedete come si impazzisce, figuratevi, ho il prossimo figlio, sei un coglione, come sono morto, comunque è sempre così con questo tipo, questo video capo finita, questo video capo finita, questo video capo finita, grazie, per il cazzo vai, sono tornato la cosa più bella di questo gioco è vedere come poi tutti cadono all'inferno, perché speri che muoia, è molto malissimo, with the vaselli, attenzione, secondo me è tipo, quanti pinguini per mouse, pinguini per mouse, in realtà comunque, tog life, tog life, no tog c'è il mio compagno che ha detto tog life, non sa l'inglese, e poi io l'ho sfottuto per questo, e i miei compagni hanno detto che, e poi i miei compagni hanno iniziato a dire tog life, e pensavo che fossi io ad aver sbagliato a dire tog life, mentre io invece stavo sfottando uno, scusa perché io gli ho detto, però non ci credo, sei nella merda, cos'è quello, cos'è? Ma che cazzo fai? Che cos'era? Una capra che moriva? Non è giusto, 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 stai schiassando tutto la schivaniccia, non vorrei, sta schiassando tutto la schivaniccia, gli faccio saperti come farlo perdere, è morto malissimo, super crate box, mi fa male la mancia, è possibile via, muoio, come ho fatto io, mi hai sottato sulla mano, mi hai sottato sulla mano con popper non più fare gli falanti, ho fatto nienteаз altre parole sono alle O'membe, assi 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 ritornato, non è giusto, non siamo ok dai dai compagni sempre nell'inferno è incredibilmente difficoltoso perché sembra facile ma non lo è provate è gratis, è il suo stimo attenzione di ora che fa pubblicità ma stimone di Geo 6 a 7 cos'è quel coso che cos'è quel coso rosa? è quello grigio però incazzato minchiana che palle però e ma ci sono i problemi posso? 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 è più incazzato che culo sono stato ammazzato mi sento di amni sono dice cazzo i figli di merda io mi sento così verso il stallone che cerca di sopravvivere come il rambo compagno malissimo arrivano da tutte le parti o li prendi velocemente o ti fanno il culo in una maniera che non ti immagini vabbè distroia di merda sei sinceramente un perdente in questo videogioco è un grande compito come faccio la mazzeria mostri con una pareri? una padella mira un padello così mira un padella davidello così culo che culo che culo che culo sette oh otto oh Cristo oh Cristo oh Cristo grande di nato vai oh Cristo oh Cristo oh Cristo oh Cristo bene ragazzi con la raggia di joelle che è andata a buttane questo video può finire qui come al solito lasciate un commento mi piace iscrivetevi alla pagina di facebook